Moretti, libera Teci, Razzolini, grande finta se riesce ad andare Razzolini, ancora Razzolini Sli bravissimo di avversari, Razzolini si vuole verso la porta, Razzolini come un centometrista Razzolini, Razzolini e il gol! E il gol dell'Arezzo! Il gol dell'Arezzo con Razzolini! Il gol dell'Arezzo con Razzolini! L'azione pazzesca quella di Razzolini che da sola si è portata la palla al piede è riuscito a saltare tutta la difesa avversaria, si è involata verso Serafino e poi è concluso a rete per il nono gol stagionale Il gol pazzesco con Razzolini, uno scatto centometrista che ha bruciato tutte le avversarie è arrivata in porta e non ha sbagliato, dunque nono gol stagionale